Ed eccoci, bentrovati dopo questo piccolo break. Riprendiamo il nostro Le Fonti HR Forum con tavole rotonde, interviste a professionisti del mondo delle risorse umane per parlare proprio di tematiche che hanno a che fare con il lavoro e soprattutto con l'evoluzione del mondo del lavoro, di come è cambiato il nostro modo di lavorare. Stiamo parlando proprio di questo e aggiungiamo sempre dei tasselli ulteriori. In questa tavola rotonda parliamo di trasformazione digitale, un tema di cui abbiamo parlato tantissimo proprio da quando la pandemia ha investito la nostra quotidianità. Tutti noi abbiamo dovuto accelerare alcuni processi che sarebbero comunque arrivati ma che hanno subito proprio una forte accelerazione. Utilizziamo ancora questa parola. È chiaro che dobbiamo prendere tutti coscienza di quello che è successo per cercare di far fruttare al meglio tutto ciò che abbiamo imparato nell'emergenza in questo ultimo anno e mezzo. Dobbiamo insomma renderli più strutturali e quindi instaurando anche un diverso rapporto, un rapporto che probabilmente si è già instaurato ma che deve diventare ancora più consolidato tra i collaboratori, i lavoratori e l'azienda stessa per cercare di creare una sinergia sempre più totale e naturalmente le aziende cosa devono fare? Devono accompagnare in questo percorso tutte le persone che lavorano insieme per un progetto o più progetti al fine di andare nella stessa direzione assolutamente. Conta anche molto e poi vi presento gli ospiti che ne parleranno con me il benessere psicologico che poi torna ad essere una parte fondamentale del tema più culturale, il fatto di aver cambiato l'approccio, il nostro approccio nel mondo del lavoro ha cambiato anche la nostra testa e deve necessariamente cambiare anche il nostro modo di vedere la realtà che ci circonda, quindi un processo culturale che deve però essere accompagnato come detto da un benessere psicologico. E naturalmente bisogna saper cogliere sfide, opportunità e sono veramente moltissime, quindi cercheremo di fare un po' ordine in questo tema, in questo contesto. Io saluto e ringrazio per essere in studio con me Alessandro Braga, Corporate Transformation Director, Talent Garden, grazie per essere con noi oggi. Grazie a te, grazie a voi buongiorno. E saluto Massimiliano Daniele, responsabile Change Management e Coordinamento Risorsi Investment Center e Network Estero di Fideuron, intesa San Paolo Private Banking. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie a entrambi. Allora, è un tema molto 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 importante questo, perché poi abbiamo aggiunto come detto dei tasselli, per esempio quello del benessere psicologico delle persone che lavorano. Io credo che parta un po' tutto da lì, soprattutto quando ci sono delle evoluzioni e dei cambiamenti che possono spaventare, ma non devono spaventare, anzi devono dare ancor più forza al lavoro. Le vostre aziende hanno sviluppato un bellissimo progetto chiamato Evoluzione Digitale, parliamo di questo percorso di 18 mesi che coinvolge oltre 8000 persone, che è stato proprio progettato per rispondere all'esigenza di creare una serie di asset e condizioni che accompagneranno in questo processo di trasformazione digitale, che è quello che si diceva anche nella premessa. Io partirei da Massimiliano per capire cosa ha portato due realtà, anche così diverse se vogliamo, tra di loro una più giovane, una meno giovane, quindi con maggiore esperienza a intraprendere un percorso di questo tipo insieme. Certo, volentieri. Ma io direi che le cose stanno già nella premessa che tu hai fatto all'inizio di questa nostra chiacchierata, nel senso che la consapevolezza di un contesto esterno che è cambiato molto e che è diventato più veloce, molto caratterizzato dal tema del digitale, ci ha portato a ragionare sulla necessità di attrezzarci tutti quanti in una maniera più completa rispetto a questo tipo di cambiamento. Mi piaceva il riferimento al benessere, io sono abbastanza convinto che uno degli elementi per avere un benessere anche lavorativo sia essere attrezzati e sentirsi attrezzati rispetto alle sfide innovative che tutti quanti siamo chiamati a affrontare. Quindi da questo punto di vista noi come Divisione Private Banking ci siamo convinti che uno degli elementi fondamentali su cui fare cambiamento culturale e di mindset fosse quello di approfondire il tema del digitale. Per questo motivo poi, cercando un partner consolidato, apprezzato, un partner altamente qualificato sul tema del digitale, abbiamo ragionato con gli amici di Talent Garden per sviluppare un programma appunto di chiamarlo formazione un pochino riduttivo, secondo me poi vedremo perché, ma comunque un cambiamento culturale che parte da una maggiore conoscenza e consapevolezza del tema del digitale che tutti quanti ci tocca ormai in una maniera più approfondita. Quindi il dinamismo è la prima cosa che avete cercato, perché di questo si tratta e questo spiega un po' anche l'apparenza di diversità che c'è tra due aziende come la vostra, però in realtà poi forse non ce n'è poi così tanto. Sì, poi l'arena competitiva in qualunque settore ormai è molto caratterizzato dal digitale. Certo. Peraltro veniamo, faccio una breve parentesi, poi non voglio togliere tempo al collega. No, no, diamo parola subito a Alessandro. L'esperienza pandemica ci ha portato ad un'ibridazione maggiore tra lavoro fisico e lavoro digitale e forse non eravamo del tutto attrezzati in quel momento per affrontare un cambiamento così repentino. Quindi vale la pena, a maggior ragione, ancorché il contesto esterno si fosse già mosso in quella direzione, di approfondire e attrezzarsi maggiormente per questo aspetto. L'ibrido abbiamo parlato e parleremo proprio in questo forum perché è una delle parole chiave. Appunto, Alessandro Braga, stessa domanda, insomma, rivolgo a te. Dal vostro punto di vista, no, anche cosa avete pensato quando effettivamente vi è stato proposto questo percorso? Beh, ma per noi devo dire che forse se vogliamo anche un po' l'obiettivo, no? Come Talent Garden noi rappresentiamo e portiamo un po' il valore, il mindset, citando Massimiliano, di una community di circa 4.500 innovatori digitali. Noi diciamo 70% circa proveniente dal mondo startup, ma poi ci sono freelance, agenzie, designer. E alla fine il nostro obiettivo è proprio quello di portare quella cifra, se vogliamo, di diversità, o comunque quel mondo di competenza e di mindset, di approccio al lavoro, in contesti come Fideuram. Quindi per noi è un piacere entrare in una logica di questo genere. Ed è un po' il nostro obiettivo, anche un pochino crediamo che sia quella la cifra di valore, no? Di portare un fattore di diversità, di poca convenzionalità rispetto a mondi di business più tradizionali. Però il digitale un po' è un terreno liquido, è un campo di gioco, io dico spesso, che è un grande abilitatore di energia. Quindi anche un po' collegandomi al discorso del benessere, per noi vuol dire attivare delle energie, vuol dire ingaggiare le persone effettivamente a mettersi in gioco. Crediamo che questo dia un senso profondo allo svolgimento della professione. E quindi invece di vederlo come una minaccia, lo possiamo girare in che bello che posso provare a cambiare un po' le regole per portare valore ai miei clienti o in quello che faccio ogni giorno. Ed è quello che cerchiamo di fare in percorsi come quello che stiamo facendo insieme. La parola energia mi piace molto, perché poi è vero, è questo, no? Per la mamma di benessere, se si riescono a prendere le potenzialità, a far emergere le potenzialità di tutti. Si lavora meglio, con più voglia, cioè ci si sente più apprezzati. Spesso, no? Magari lavoriamo, però non ci sentiamo apprezzati e manca quel punto in più che ci fa poi raggiungere maggiormente l'obiettivo che l'azienda ovviamente mi chiede di raggiungere in quanto lavoratore, no? Quindi questo è assolutamente molto importante. La domanda, visto che ho spiegato in poche parole di cosa si tratta, no? Abbiamo parlato di questo progetto, Evoluzione Digitale, 18 mesi, quindi ribadiamo un po' anche il timing, e coinvolge 8000 persone. Mi chiedo, e magari ritorno da Massimiliano per poi sentire anche Alessandro, insomma, a mettere insieme un po' le varie sensibilità, quali obiettivi nel dettaglio vi siete prefissati prima di iniziare e soprattutto, visto che il percorso è lungo, coinvolge tante persone, insomma, cosa sta dietro all'organizzazione generale di un progetto come questo? Allora, intanto diciamo che sono quasi 9000 le persone coinvolte. Allora, ancora di più, ho detto 8000 che sono già tante, quasi 9000. No, no, assolutamente. Beh, gli obiettivi sono quelli che abbiamo definito prima, cioè il tema di un cambiamento culturale di mindset sull'aspetto digitale perché siamo convinti che il futuro sia nel digitale. evidentemente anche in un mestiere come il nostro. Come si fa a ingaggiare 9000 persone? Si deve, ed è quello lo sforzo che abbiamo fatto assieme ai miei amici di Talent Gardner, evidentemente cercare poi di clasterizzare il più possibile per arrivare nella maniera più efficace rispetto ai bisogni di parti di questa popolazione che inevitabilmente hanno bisogni differenziati. E quindi noi ci siamo mossi in una, secondo una modalità tutto sommato modulare, se mi passate l'espressione, per cui abbiamo costruito un'offerta formativa, che poi ripeto, apro e chiudo parentesi, poi sul formativa dopo magari ci ritorniamo. Ve lo seguo anche io così. Esatto, ok. Che prevede, a seconda della platea di riferimento, degli interventi diversi. Per esempio, noi abbiamo sostanzialmente tre filoni di attività. Un primo filone è quello che abbiamo denominato leadership program, cioè sono dei leadership boot camp destinati a 160 manager di sede o di rete chiamati a confrontarsi sui temi molto caldi del digitale, quindi con l'intervento di esperti, con l'intervento di guru del digitale, italiani e internazionali, in modo da avere il polso di quello che sta accadendo e anche di capire, magari in anticipo, grazie agli amici di Talent Garden, dove si sta andando rispetto al digitale, che è un mondo molto ampio, quindi cercare anche di capire quali sono gli orientamenti e le prospettive di sviluppo di questo tipo di attività, per noi è importante. Quindi questo è un primo blocco che tiene le antenne dritte rispetto alle evoluzioni nel campo del digitale, che evidentemente poi per quello che ci riguardano impattano in particolare il mondo dell'economia e del sociale nel complesso. Poi c'è un secondo gruppo di persone, che sono circa 800 colleghi, che sono quelli più direttamente coinvolti sugli aspetti progettuali legati al digitale, che quindi hanno bisogno, ai quali abbiamo dedicato, quella che abbiamo definito Master Class, cioè alcuni interventi estremamente mirati per persone che di fatto, lo dico in maniera molto semplice, già mettono le mani in pasta sul tema del digitale. E quindi, come dire, si tratta di interventi un pochino più sofisticati o quantomeno un po' di direttura più tecnica rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino a adesso. Infine c'è quello che abbiamo definito ABC Digitale, quindi un intervento dedicato a tutti quanti i 9.000 colleghi della nostra divisione attraverso poi una piattaforma online che noi abbiamo di formazione che si chiama Apprendo e che è lo strumento, il veicolo attraverso il quale noi già facciamo la normale formazione quotidiana. E 2.500 di queste persone che invece avranno dei 6.000 anni online dedicati per approfondire ancora alcuni aspetti più in dettaglio del mondo digitale. Non finisce qui, perché poi al termine del progetto ci saranno 250 colleghi che verranno coinvolti in attività tipo ACATAM o di prototipazione. Eh, lui è più bravo di me. Prototipazione. Mi impiccio sempre. La compensazione di cui parlavamo prima. Eh sì, che sinergia facciamo. Lui è giovane, mi deve aiutare pure a dire prototipazione. Adesso ce lo fa. E quindi in pratica mettere poi in campo, in maniera più diretta, alcuni degli spunti e delle cose che saranno emerse nel corso di questa attività. Bello, molto interessante. Appunto, anche magari chiedendoti Alessandro cosa ti ha colpito di più di questo percorso, però ripartiamo dalla domanda che ho fatto anche a Massimiliano, cioè come è stato gestito un po' tutto il processo. E poi quali sono stati, secondo te, i punti di forza? Quelli che vi hanno più attirato e che vi hanno fatto più impiegare energia in senso positivo, l'energia di cui parlavi tu poco fa. Certo. No, allora, devo dire che la cosa più bella e più anche motivante per noi e stimolante è sicuramente che è un progetto di questo genere, è un progetto che si fa a 4 barra 8 mani, quindi si lavora molto insieme, si va a toccare tutta la popolazione aziendale, si lavora con i leader, quindi in termini di regia, di decisione, è veramente un processo di co-design continuo, molto pronunciato e molto stimolante, che per noi significa un'opportunità grandiosa di imparare tantissimo anche noi da una realtà come Banca Fiderano durante un percorso di questo genere. Quindi la cosa proprio entusiasmante per noi è questo aspetto. Le cose che mi hanno colpito, a me colpisce sempre quando riusciamo a generare quell'ingaggio di cui parliamo ed è molto visibile, è questo tema delle energie liberate, lo facciamo anche oltre ad un aspetto architetturale che citava Massimiliano, quindi cercando di portare i contenuti, gli stimoli giusti, le popolazioni di riferimento, eccetera eccetera, ma poi c'è anche un tema probabilmente che affianchiamo un po' di linguaggio, un po' di walk the talk diciamo noi nel nostro ambiente, quindi il fatto di essere molto coerenti nelle persone che portiamo, i docenti non sono docenti di professione ma sono tutti professionisti del digitale, imprenditori del digitale, quindi portano una vera capacità di fare, di muovere i bit del mondo digitale e quando riusciamo, e devo dire che ci sono stati dei momenti sorprendenti, per esempio Massimiliano citava le masterclass che sono questi formati, formativi che vanno a colpire ciascuna 25-30 colleghi, ciascuna ha un verticale tematico, la masterclass che per certi versi all'inizio un po' ci preoccupava era proprio quella di test e prototipazione, quindi prototipazione rapida, utilizzare gli strumenti digitali per provare a capire se è un'assunzione giusta o sbagliata, per lavorare sulle relazioni col cliente o su un processo interno è diventato un cantiere di energie, di motivazioni enorme, che forse uno non si aspetterebbe prima che una popolazione del genere si attivasse in quel modo, invece si vede bene nei feedback ma proprio in generale nel clima che viene generato in quel contesto c'è proprio tantissimo scambio e lì è proprio la diversità, perché noi portiamo un atteggiamento un po' piratesco per certi versi, perché siamo fatti così, vengono ex start-up perché non conoscono neanche la complessità di un processo aziendale, quindi devono provare a fare una cosa e la fanno. Anzi, devono capirlo proprio lì, no? Cosa significa avviare un processo aziendale, assolutamente. Se posso agganciarmi a una cosa che ha detto Alessandro è per sottolineare il tema dell'energia, mi piace fornire un dato che secondo me dà il senso dell'energia che ha scatenato questo programma di evoluzione digitale, cioè noi prima di partire con il programma vero e proprio abbiamo fatto una survey a tutti i 9 mila dipendenti, a tutti i 9 mila colleghi che lavorano nella divisione per capire come erano messi a livello di competenze del digitale, che tipo di interesse vi fosse rispetto a questa iniziativa. Noi abbiamo ricevuto 7.350 risposte, quindi con una redemption che quando fai una survey sul numero di questo tipo è assolutamente straordinaria perché siamo andati molto oltre l'80%, ci ha fatto grandissimo piacere ed è la dimostrazione di quello che diceva Alessandro, cioè che siamo andati evidentemente a stimolare un aspetto su cui ci sono grandi aspettative, grande interesse, grande curiosità, quindi questo ci ha fatto molto piacere. Il processo è proprio questo, perché magari ci sono tante curiosità, tanti interessi, ma se non si propongono effettivamente idee e cose non si capisce fino a che punto l'energia, perché piace anche a me questa parola, soprattutto in questo contesto, può uscire veramente e può manifestarsi. C'è qualcosa che ti ha colpito di più di questo percorso? L'ho chiesto anche Alessandro, ma insomma forse è questo la risposta? No, c'è quel punto che abbiamo in sospeso, che tu hai segnato, che riguarda Perfetto, qui tengo particolarmente, ma si è capito che ci tengo particolarmente, cioè a dire... E allora arriviamoci adesso. Ci arriviamo velocemente, nel senso che tutto questo prevede poi che nel corso del piano di formazione vengano raccolti stimoli e idee che poi ci consentiranno di dare una concreta definizione in termini di nuovi prodotti e servizi da adottare nell'attività di business. Quindi tutto è molto focalizzato e darà la possibilità ai colleghi di fornire dei suggerimenti, degli spunti, appunto, e delle idee che noi vorremmo cogliere per fare... Infatti Alessandro, mi verrebbe da dire, quindi non una formazione asettica, perché quando si parla di formazione, fermo ora, sanno che in Italia siamo un po' carenti, pensiamo a qualcosa di noioso, invece no, una formazione che proprio prevede un raccoglitore di idee, no? Eh sì, in più... Eh, però questo secondo me è fondamentale. Devo dire che poi quando si parla di trasformazione digitale poi si mischiano molti elementi, no? Quindi l'aspetto formativo senza mettere in pratica diventa una cosa poco sensata. Ma a volte si fa quell'errore. Eh sì, quindi è una formazione estremamente dinamica. Poi, come dicevo prima, è un confronto, anche perché citavamo prima che il progetto dura 18 mesi, è quello che significa trasformazione digitale oggi, è quello che significherà tra 12 e 18 mesi si sarà evoluto, perché si chiama evoluzione digitale non a caso, per cui è talmente veloce che 18 mesi comincia ad essere un lasso temporale importante. E poi... Infatti quello che direi, diciamo, oggi non varrà domani, quindi domani se volete tornare vediamo cos'è cambiato. Scherzi a parte, dicevi poi... No, dicevo che poi chiaramente lavorando su nuove competenze non si può, diciamo, astrarsi da una logica di change management, perché chiaramente abilita nuovi comportamenti, nuove propensioni al business, nuovi modi di lavorare e quindi metterle in pratica non può che comportare un progetto di cambiamento. Quindi per quello forse Massimiliano dice è più che formazione. Assolutamente, no, però Massimiliano giustamente diceva ci tengo molto, ma come vedete anche io ho voluto approfondire in un istante questo aspetto che è fondamentale, se no, di cosa stiamo parlando, proprio perché poi è tutto velocissimo, no, e evolve tutto assolutamente dall'oggi al domani. Avviamoci alle conclusioni, ma parto ancora da Massimiliano e poi vado da Alessandro. Quali cambiamenti sperate di vedere prima di altri, non lo so, valutate voi da qui all'evoluzione del programma, cioè con un programma simile, cosa vi aspettate? Ma è quello che dicevo prima, di fatto noi adesso stiamo insieme agli amici di Talent Garden seminando i gerbi di un'evoluzione digitale e quindi ci aspettiamo poi che arrivino una serie di spunti di idee che ci consentano di fare un'offerta complessiva nell'ambito del nostro business molto più spostata sul digitale, quindi ancora di più facendo leva sulle possibilità che questa evoluzione ci darà in futuro, nel prossimo futuro. Certo, Alessandro, si parlava anche proprio di accompagnare, no, quasi per mano tutti coloro che partecipano a questi progetti. Certo, no, io mi unisco assolutamente a Massimiliano, nel senso che quello che non solo speriamo di vedere, ma anche lavoriamo ogni giorno perché accada, è proprio quello di trasferire questo passaggio di linguaggio e di competenze in degli oggetti nuovi di servizio, di business e di modalità di lavoro che all'interno dell'organizzazione saranno agevolati e creati. In più, se vogliamo, non in più, anche, cioè, alla fine l'ingrediente per noi essenziale per farlo in un certo modo è quello di riuscire ad abilitare, se vogliamo, l'immaginazione, la capacità immaginativa delle persone, no? Al digitale, alla fine approcciarsi al digitale vuol dire approcciarsi a un mondo fluido che continua a mettersi in gioco e a proporci nuovi elementi e quindi abilitare quella capacità di immaginarsi nuovi incastri tra pezzi del puzzle, nuove modalità di relazionarsi con i propri clienti, nuovi propri modelli di business anche, è quello che alla fine, se otteniamo una riga, è quello che cerchiamo di fare in un progetto del genere, è quello che la nostra community, che io chiamo di creativi tecnologici, persone capaci di applicare una buona dose di creatività alla tecnologia, sa fare, fa quasi inconsapevolmente per certi versi, ed è quello che cerchiamo di portare in contesti strutturati, organizzati, giustamente come Banca Fide Euram. Certo, ottimo, mi piace molto, peraltro mi viene da dire che proprio, visto che è un progetto di questo tipo, si evolverà, credo strada facendo, quindi oggi ci sono delle basi da cui siete partiti, però poi credo che sarà un continuo... Sì, è una co-creazione, una collaborazione continua. Sì, che quindi nel tempo evolverà, ovviamente attenti a tutti gli spunti che emergeranno, con l'obiettivo di dare a tutti quanti i colleghi, parlo evidentemente per il nostro mondo, una maggiore consapevolezza di essere più attrezzati, e torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, per affrontare con maggiore serenità il contesto in cui viviamo. Assolutamente, grazie Massimiliano Daniele Fide, Euram, Intesa San Paolo Private Banking. Grazie a voi. Davvero, grazie Alessandro Braga, Talent Garden, per averci aperto ulteriori orizzonti su questi temi che saranno, che non sono il futuro ma sono il presente, indubbiamente, perché il futuro sarà ancora ancora più veloce, insomma. Grazie a entrambi per essere stati con me in studio. Grazie a te, grazie a voi. Vi aspetto presto, naturalmente, non solo per le altre edizioni dell'Echar Forum, ma anche magari per approfondire questi temi, per raccontarci come sta andando il progetto. E noi continuiamo sempre con il nostro Echar Forum. Grazie a tutti.